Buonasera a tutti, sono Danilo Turchatto, presidente dell'associazione Renzo Barbugliani di Rovigo. Siamo qua in pescheria, abbiamo appena aperto la mostra che viene visitata dalle persone di Rovigo che possono tranquillamente entrare ad ingresso gratuito. La mostra è stata fatta assieme a tante altre iniziative che abbiamo organizzato per l'agosto in città. Sono state fatte diverse attività, abbiamo avuto una serata di musica, abbiamo avuto una presentazione di un libro, abbiamo avuto l'allestimento della mostra da parte dei curatori che in linea di massima sono tre le mostre, una fotografica, una pittorica e una della Croce Rossa italiana curata da Enzo Bertelli. I pittori sono tutti della Barbugliani, soci e volontari della Barbugliani che fanno durante l'anno la loro attività e hanno esposto i loro quadri che hanno eseguito nell'arco dell'anno. Qua vicino a me ho due pittori, la signora che è Antonietta Capanna e il curatore della mostra pittorica Andrea Bascarin che è anche il coordinatore del gruppo pittori della Barbugliani. Ecco, questa sera abbiamo ottenuto questa serata solo ed esclusivamente adibita ad illustrazione e vedere la mostra. Ci saranno i curatori, i pittori che daranno indicazioni alle persone che verranno a vederla. Domani sera ci sarà un'altra manifestazione, il nostro pittore rodigino Carlo Campi si esibirà in un'elaborazione di un quadro da zero fino alla fine, quindi qua in Pescheria domani sera alle 21. Sabato sera un'altra pittrice farà la stessa cosa, un'altra genere di pittura. Domenica sera ci saranno letture di poesie, di storie e di per i bambini e per gli adulti. Ci fermiamo come fine settimana, andremo a riprendere giovedì prossimo, quindi giovedì prossimo troveremo ancora la mostra aperta dalle 21, al venerdì ci sarà un'altra pittrice che ci presenterà un suo quadro e al sabato chiusura finale a sorpresa. Dovremmo ancora decidere cosa faremo e quindi andremo a concludere questa estate in città organizzata dall'Associazione Barbujani.